Grazie Roberto. E ora una persona che è stato un grande ministro del lavoro, il più grande ministro dell'interno e ha insegnato a tutti come si combatteva l'immigrazione irregolare e dopo quello che ho sentito da Matteo mi sa che diventerà anche il più grande governatore delle regioni, Roberto Maroni. Grazie a tutti di essere qua oggi. Lega, 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 Lega. Parlo da ex ministro dell'interno che si è occupato di combattere la mafia, di garantire la sicurezza ai cittadini e di contrastare l'immigrazione clandestina e la domanda si possono fermare i clandestini perché così si chiamano, non profughi o migranti, clandestini. La domanda si possono fermare? Sì. Ministro Alfano, non sai come fermarli? Fammi una telefonata che ti spiego io come si fa. È molto semplice. Primo bisogna stare lì e occuparsene, non andare in giro a fare altre cose, occuparsi delle beghe del partito, del PDL. Il ministro dell'interno deve fare il ministro dell'interno H24, 24 ore al giorno nei momenti di crisi. Secondo, mandare le nostre navi militari nelle acque internazionali vicino alle acque territoriali dei paesi africani perché non è possibile che arriva un barcone a 200 metri dalla costa. Ma com'è possibile oggi con i GPS, i radar, riusciamo a vedere una formica a 10.000 chilometri da qua e un barcone arriva e nessuno se ne accorge. È giusto piangere i morti, ma io vorrei che qualcuno in Italia cominciasse a chiedersi di chi è la responsabilità di quei morti. Chi li ha lasciati arrivare e non ha fatto nulla per fermarli? Mandiamo le nostre navi come io avevo fatto là ai confini delle acque territoriali degli altri paesi e con i radar appena i barconi partono si fermano, li fermiamo e li riportiamo indietro. Terza cosa, andare a parlare con i governi di quei paesi e fare degli accordi come io avevo fatto per impedire che partano. L'avevo fatto con la Libia, con la Tunisia, con l'Egitto e ha funzionato fino a che poi è saltato per aria tutto con la primavera araba, ma ha funzionato. Nel 2010 i flussi si sono praticamente azzerati. Questo bisogna fare, non andare a Lampedusa a piangere o a versare lacrime e poi bisogna che qualcuno abbia il coraggio di dire a questa Europa, lo dico agli europarlamentari nostri, che l'Europa non sta facendo un cazzo contro l'immigrazione clandestina. Bisogna chiamarli a rispondere nel Parlamento europeo. Io conosco bene le questioni, conosco bene Cecilia Malmstrom, commissaria europea e mi fa sorridere ma di tristezza sentirla dire interverremo con Frontex. Che cos'è Frontex? È un'agenzia europea che dovrebbe controllare le acque del Mediterraneo. Il presidente di Frontex, il direttore di Frontex tre giorni fa ha detto scusate i fondi per il 2013 sono finiti e di che cosa parliamo? E ha detto però forse, forse riusciamo a trovare per l'Italia due milioni di euro. Cara Frontex, l'elemosina te la fai a casa tua, noi non la vogliamo. Questo deve fare un governo, questo deve fare il governo, deve occuparsi di bloccare i barconi perché vuol dire salvare le vite umane, altro che razzisti. Noi sappiamo e noi l'abbiamo fatto, noi abbiamo salvato le vite umane, così si salvano, se no è solo ipocrisia e qualcuno dovrà rendere conto di questi morti, cosa che finora non è avvenuta. Parlo adesso da governatore della regione Lombardia, il governo immagino ci chiamerà per dirci, a noi governatori, per dirci qui c'è un problema, dobbiamo ospitare questi poveri profughi. Non sono poveri profughi fino a che le commissioni non avranno stabilito che sono profughi, fino ad allora sono clandestini e io i clandestini in Lombardia non li faccio entrare, è lo stesso in Piemonte e lo stesso in Veneto. Vero Roberto? La macro regione del nord dice no ai clandestini, lo sappia il governo, governo avvisato, solo mezzo però, infine parlo da leghista, sono orgoglioso di essere leghista e a chi mi dice sei un razzista io rispondo sei un coglione, questa è la risposta, testa alta di fronte a queste coglionate, testa alta, orgoglio di essere leghisti e l'orgoglio per me di appartenere a un movimento politico che ha un presidente che ha dato il nome alla più importante legge di contrasto all'immigrazione clandestina, la legge Bossi punto. Vieni Umberto, eccolo, è lui, chi ha dato il nome alla legge e guai a chi la tocca. Umberto a te la parola.